Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Sono oramai passati 50 anni dalla scoperta del fossile famoso di Lusi. A novembre del 2024, cioè di questo mese, sono passati diciamo questi 50 anni, mezzo secolo, e la scoperta di ominidi che vivevano all'epoca di Lusi ha reso evidente la complessità dell'evoluzione umana. Lusi è un fossile di australopiteco Afarensis, risalente a circa 3,2 milioni di anni fa. Questa scoperta ha permesso di comprendere meglio l'evoluzione umana. Tuttavia, negli ultimi anni, ulteriori scoperte hanno permesso di ampliare ulteriormente le prospettive della preistoria. Si è capito che per una buona parte della storia esistevano più specie di ominidi che convivevano tra di loro. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale, come sempre, e ad attivare la campanellina delle notifiche così rimani sempre aggiornato o aggiornata su tutti i contenuti che pubblico. Sul mio canale parlo di argomenti di medicina, odontoiatria e antropologia a scopo divulgativo. La scoperta di ominidi che vivevano contemporaneamente all'usi ha reso evidente la complessità della nostra evoluzione. Negli anni 70 i fossili di ominidi più antichi conosciuti avevano circa 2,5 milioni di anni e appartenevano alla specie di Australopithecus africanus scoperta in Sudafrica. Questo fossile rappresentava l'unico antenato umano conosciuto abbastanza antico da essere considerato anteriore a specie successive, ma già allora c'erano comunque dei dubbi. Fino a quando nel 1972 Donald Johnson si recò in Etiopia con lo scopo di cercare fossili più antichi. La regione di Afar fosse tacciata. Nel 1973 Johnson trovò un ginocchio di ominidi di 3,4 milioni di anni, suggerendo che gli ominidi camminano eretti, molto prima di quanto ipotizzato. Tuttavia per una comprensione più precisa servivano dei resti cranici ma soprattutto anche dei resti dentali che furono trovati l'anno successivo con la scoperta di Lucy. Fu così che trovarono fossili di Australopithecus afarenzis, cioè di Lucy. Ma perché diciamo questo scheletro fu soprannominato Lucy? Questo nome fu preso dalla canzone dei Beatles Lucy in the Sky with Diamonds che suonava in manganastri mentre la squadra sul campo festeggiava. Ovviamente lo scheletro di Lucy, come potete ben immaginare, non è completo. Circa 47 ossa furono ritrovate. Tuttavia la sua scoperta rappresentò un evento cruciale in paleoantropologia. Lucy era alta circa un metro con un peso tra i 30 e i 35 chili e le sue caratteristiche anatomiche permisero di capire che camminava eretta con una andatura molto simile a quella umana. Era però primitiva, il suo cervello era piccolo, di circa 388 centimetri cubi, molto simile a quello degli scimpanzè e, inoltre, alcune caratteristiche dentali erano arcaiche, come il primo premolare inferiore. Questa ipotesi del bipedismo di Lucy, nonostante l'assenza di un cervello ben sviluppato come il nostro, incontrò numerose resistenze nell'ambito della comunità scientifica che voleva ulteriori prove fossili e così fu. Negli anni seguenti furono scoperti altri fossili e l'ipotesi poi successivamente fu confermata. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto potete lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, ma soprattutto condividerlo con altri utenti, perché soltanto in questo modo mi aiutate a creare dei contenuti sempre più di qualità. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.